Ciao bilancia, bentornato. Oggi è martedì, 15 ottobre 2024, e ho delle previsioni speciali solo per te. Sei pronto a scoprire cosa ti riservano le stelle? Oroscopo bilancia. Un martedì tutto lavoro. Naturale, anche per voi romantici, dedicare il martedì più al lavoro che al cuore, anche se venere, gelosa è un filo possessiva, reclama la sua parte per sentirsi rassicurata e non piantarvi grana al momento sbagliato. Il pensiero dominante quest'oggi è il lavoro o lo studio, garantito dal trigono in gioco tra il sole nel vostro segno e giove in gemelli, segno intellettuale targato aria come il vostro. Benino anche le finanze, con venere che d'accordo con Mercurio tampona un precedente salasso, beninteso, la banca non vi farà regali e nemmeno sconti, dovrete provvedere versando il vostro stipendio e con un impegno serio e responsabile, senza grilli per il capo. Ecco gli ordini della Luna e di Saturno in sesta casa, amica di Marte che vi incita a darvi da fare al meglio delle vostre forze e delle vostre potenzialità. E con un capo così esigente non potete far altro che correre. Episodi sfortunati che impongono riflessione e una puasa, alcuni progetti potrebbero abortire o non trovare la strada giusta per realizzarsi. La fortuna non è dalla parte vostra e anche l'amore ne risente. Compromissioni di amicizie o incomprensioni. Curate di più i rapporti con colleghi, di lavoro o di studio, e con gli amici, alcuni potranno essere anche interessati, ma generalmente non lo sono. Non soffrzatevi oggi di fare pulizia sui social, rimandate a quando avrete più tempo e serenità. Formare una famiglia è il vostro sogno. Ma bisogna prima mettere le cose in chiaro con il partner che sembra ancora indeciso. Vi sembra che il tempo stia scorrendo troppo velocemente? Bene, cosa aspettate allora a prendere del tempo unicamente per voi e a provare a rilassarvi? Se alcuni problemi sembrano insormontabili è proprio perché non vi concedete una giusta pausa. Oggi un amico o un'amica di cui vi fidate potrebbe darvi un dispiacere o sgambettarvi, per il semplice gusto di vedervi in difficoltà potrebbe anche svelare qualche vostro piccolo segreto. Affrontate tutto con diplomazia e indifferenza. Il vostro atteggiamento spesso viene frainteso, qualche volta apparite come duri e cinici. Dovreste saper dosare in modo equo severità e felsibilità dosando le vostre parole e i vostri comportamenti. Chi più di voi può sapere ciò che piace? Allora non disdegnate di far sapere in giro quello che vi piacerebbe davvero ricevere in regalo. Qualcuno potrebbe pensarci davvero. Piccola fortuna in arrivo, potreste impegnarla per esaudire un vostro piccolo desiderio. Molto bene la salute ma dovrete mantenere un giusto equilibrio a tavola. In questa bella giornata di autunno vi svegliate di buon umore e con una bella carica attivo, combattiva al vostro fianco. È vero che avete Venere, Corpo Celeste vostro nome tutelare, benefica dal buon vicino Scorpione, che vi rende solidi da un punto di vista emotivo e morale, ma è anche merito della vostra straordinaria forza di carattere che vi dà a man forte e vi illumina il cammino. Con il sole ancora al vostro fianco potete contare su un'ottima prontezza di scatto. Vi attende la palestra o, con gli amici di famiglia, balli scatenati dove poter esibire la vostra prestanza fisica. La parte sociale e mondana è un po' sottotono, ma non importa, in questo momento le soddisfazioni professionali e familiari vi riempiono di più la vita. Compleanno felice grazie al trigono in gioco tra il sole nel vostro segno e l'amico Giove in gemelli. Sarebbe felicissimo se tra voi non ci si mettesse Marte Battagliero allo Zenit, pronto a seminare zizzania non appena gliene capita l'occasione. Nulla da ridire sull'assetto finanziario, quello almeno, grazie a un introito inatteso, fila col vento in poppa. A garantirvelo mercurio e venere in seconda casa, ragionevoli nell'acquisto, brillanti nel risparmio. L'aspetto più faticoso quest'oggi riguarda il lavoro, sottolineato da Saturno staccano vista abbracciato alla luna nella vostra sesta casa. Guadagnerete bene e realizzerete grandi cose, ma che fatica! Amore ed Eros. L'amore c'è, venato di possessività, ma se il partner non ci bada, anzi se ne sente onorato, andrà bene o neanche così. Non idilliaco invece il rapporto con i suoceri, sempre ipercritici nei vostri confronti. Perfino il loro cane o il loro gatto non vi vede di buon occhio e quando vi incontra vi lancia certe occhiate. Comunicazioni sempre attive con amici trasferiti all'estero, sempre uguale il loro messaggio, molla tutto e vieni qua, dove ci sono più opportunità di crescita professionale con guadagni interessanti. Tutto vero, ma come la mettereste con la famiglia? Lavoro e denaro? Incomincia una nuova settimana lavorativa con incombenze pesanti. Vero che la vostra fatica è ben remunerata, tuttavia. Aver a che fare cinque giorni su sette, talvolta anche sei, con un capo isterico non è facile neppure per un tipo diplomatico come voi. Vita più facile e di soddisfazione per chi per ora studia soltanto, sostenuto da una famiglia generosa che provvede al 100% a tutte le sue necessità, a patto naturalmente che non rimanga indietro con gli esami. Gambe in spalla perciò, specie se siete ambiziosi vietato sgarrare. Finanze discrete ma occhio agli acquisti reiterati, moda, cosmetici, arredamento, tutto ciò che è bello e armonioso cattura la vostra attenzione. Peccato che di cose belle questo mondo sia pieno. Infatti state già riempiendo anche la casa e il guardaroba. Benessere. L'aspetto è splendido, solare e giovane, tuttavia qualche maluccio di tanto in tanto lo nascondete anche voi. Saranno i segni dell'età che avanza, si sa ma non si dice. Oggi per esempio dopo un weekend movimentato e magari anche godurioso la nuova settimana vi dà il buongiorno con un fastidioso cerchio alla testa. Sarà l'ansia all'idea di ricominciare con un'agenda da paura. Nulla da ridire però sul vostro stile di vita, sempre sano e morigerato anche a tavola. Alla linea e alla bellezza ci tenete parecchio, perciò fate il possibile per salvaguardarvi nel tempo, dimostrando sempre una bella cifra di anni in meno. Mission impossibile? Per altri forse, ma non per voi. Riceverete garanzie di fedeltà ma non saranno soddisacenti. Del resto dovete moderare la vostra gelosia e possessività. Per lei, viaggiare per lavoro, partecipare a congressi, intervenire a un meeting, quanto vi piace, ma naturalmente occorrono l'abbigliamento giusto, elegante ma con un tocco giovane, che sdrammatizzi un po' la vostra posizione. Per lui, l'apparenza è agile, spiritosa, brillante, solo voi sapete di non essere in forma, con un sottile cerchio alla testa o un fastidioso mal di schiena. Non vi piace ricorrere alla chimica, ma. O trovate un agopuntore subito disponibile, oppure per oggi vi toccherà rassegnarvi alla famigerata pasticca. Colore delle emozioni, giallo mimosa. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 7, finanze, 8, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Buona giornata. Grazie per aver guardato il video.